Ben trovati con il nostro consueto appuntamento sulla Catechesi dei messaggi del 25 del mese, messaggi che rivestono una sempre maggiore importanza da quando il 2 marzo scorso la Madonna ha smesso di dare i messaggi del 2 del mese a Miriana. Sappiamo che si è conclusa così una parte del suo piano. Possiamo dire che per 23 anni, dal 97 al 2020, con messaggi puntuali il 2 di ogni mese, ma in realtà da dieci anni prima, dall'87 con apparizioni il 2 del mese personali proprio a Miriana, la Madonna ha preparato quel grande popolo di individui che, come ha detto lei, non avevano ancora fatto esperienza dell'amore di Dio per potersi avvicinare, per poter accogliere il suo invito alla conversione. L'ultimo messaggio sembrava proprio aver dato questa conferma quando diceva apostoli del mio amore, il vostro amore pure sincero commuove il mio cuore materno. Si è chiuso una parte di quel piano. Faccio questo riferimento perché i due messaggi che introduco questa sera sono del 25 gennaio 1991 e 25 febbraio dello stesso anno. In quell'anno crolla il comunismo sovietico. Si compie la promessa di Fatima e questo è preludio al trionfo del cuore immacolato di Maria e alla concessione di un tempo di pace. Il demonio, sapendo che in quell'anno si andava per compiere questa promessa, sappiamo che tra l'8 e il 25 dicembre del 91 si scioglie l'URSS e viene ammainata per l'ultima volta la bandiera rossa sul cremlino, due date non casuali, l'immacolata e il santo natale, segno che solo Dio è il signore della storia, al di là degli avvenimenti umani. Ecco che proprio all'inizio di quell'anno la Madonna ci mette in guardia da quanto il demonio, sapendo che gli resta poco tempo, si è ormai scatenato e voglia intralciare i progetti di pace della Madonna che proprio a me giuro che si presenta come regina della pace. Cari figli, oggi come mai prima vi invito alla preghiera. Che la vostra preghiera sia preghiera per la pace. Satana è forte e desidera distruggere non solo la vita umana ma anche la natura e il pianeta su cui vivete. Ecco pensiamo anche a distruggere la vita eterna portando le anime alla perdizione e poi portare il mondo all'autodistruzione, distruggere il nostro pianeta. Anche in tempi recenti la Madonna ci ha detto che il demonio vuole distruggere il pianeta su cui camminiamo però ha usato un'espressione ancora più forte che ci fa capire quanto siamo vicini al tempo dei segreti. Non si è limitata a dire Satana è forte ma ha detto Satana regna come se fosse per arrivare ormai all'apice del suo patere nel primo combattimento escatologico quello proprio segnato dall'opposizione tra la donna e il dragone infernale nel tempo dei segreti. Come riuscire a resistere a tanta furia? Intanto sapendo che anche la scrittura ci mette in guardia. Al capitolo 12 dell'Apocalisse parla del demonio, Satana, il serpente antico, il diavolo che è precipitato sulla terra dopo aver perso con a San Michele Arcangelo e dice che questo drago se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, la discendenza della donna vestita di sole, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Cioè lo scatenamento satanico che ha colpito, che ha preso di mira la Madonna e Gesù e sappiamo come è andato sotto la croce perché il demonio pensava di aver vinto quel venerdì, non sapeva che la croce sarebbe poi ribaltata nella sua peggior sconfitta, questo potere di attaccare l'umanità e la creazione ce l'avrà il demonio fino alla fine dei tempi. Ecco perché la scrittura ci aiuta a essere in guardia. Infatti anche Gesù stesso mette in guardia i suoi. Capitolo 26 di Matteo, pregate per non cadere in tentazione e ancora il capitolo 21 di Luca, pregate in ogni momento perché abbiate la forza di sfuggire a ciò che deve accadere. Come dire, gli avvenimenti terribili di cui parlava Gesù nei suoi discorsi apocalittici, di cui sappiamo parlano i segreti che la Madonna ha consegnato ai veggenti a Meggiugorie, questi avvenimenti accadranno, però possiamo sfuggire alle conseguenze più nefaste, cioè a quella perdita della fede che ci porterebbe all'incredulità e quindi a seguire la strada che il demonio spiana davanti a noi, invece che scegliere quella porta stretta che porta alla salvezza. La Madonna ci esorta a essere protetti dalla preghiera. Prosegue il messaggio del 25 gennaio 91, perciò che rifigli pregate per poter essere protetti attraverso la preghiera con la benedizione della pace di Dio. Dio mi ha mandato tra voi per aiutarvi. Se volete afferrate il rosario, già solo il rosario può fare miracoli nel mondo e nella vostra vita. Questo è un bellissimo trattato sintetico sulla preghiera. La miglior conferma di quanto questi messaggi non possono che essere soprannaturali viene dalla ricchezza dei temi che vengono trattati in maniera estremamente sintetica. Un uomo non è capace a fare così e io posso perdere tempo e parole a commentare cose che forse sarebbe sufficiente leggere. Il rosario fa miracoli nel cambiare il mondo e la nostra vita. Quindi la preghiera ottiene grazie per il mondo e ottiene la conversione del nostro cuore. Ecco a cosa serve la preghiera. Io vi benedico, dice la Madonna, e rimango con voi finché Dio lo vuole. Grazie perché non tradirete la mia presenza qui. Grazie perché la vostra risposta serve al bene, alla pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, questo è proprio un incoraggiamento. La preghiera protegge. Il rosario soprattutto, ricordiamo quando padre Pio parlava del rosario come l'arma più potente da impiegare contro il demonio. Però bisogna decidersi. Ecco allora che il mese successivo, 25 febbraio del 91, così incomincia la Madonna. Cari figli, oggi vi invito a decidervi per Dio, perché l'allontanamento da Dio è frutto della mancanza di pace nei vostri cuori. Il demonio cerca di metterti agitazione, cerca di darti inquietudine, di confonderti. Ti tenta col pensiero che se tu smetti di pregare ti lascerà tranquillo. Allora ti manca la pace e tu cosa fai? Per stare tranquillo ti allontani da Dio, mentre dovresti fare esattamente il contrario. Per questo avvicinatevi a Lui tramite la vostra preghiera personale. Dopo vivete la pace nei vostri cuori. Se aspetti di essere in pace per poter cominciare a pregare non pregherai mai. Se aspetti di essere tranquillo, pronto, sereno. Adesso appena mi decido, poi domani. Non domani, adesso. La Madonna parla del momento presente come il momento decisivo per la tua conversione. Incominci a pregare, apri il cuore a Dio e Lui che è il Re della pace porterà pace nel tuo cuore e non soltanto al tuo. Infatti prosegue la Regina della pace così la pace dai vostri cuori potrà correre come un fiume in tutto il mondo. Non parlate di pace ma praticatela. Io benedico ognuno di voi e ogni vostra buona decisione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, la cosa essenziale di questo messaggio è che si conclude con un invito molto pratico. Non basta parlare della pace, bisogna praticarla in modo molto concreto, imparando a fare silenzio, a non rispondere subito, a fare gesti di perdono nei confronti di quelli che magari seppelliremmo sotto la nostra dimenticanza. Invece hanno bisogno di vedere in noi che Dio è amore, che Dio cambia il cuore anche quelli più induriti e guardate che poi se sapremo dare questi perdoni, libereremo il nostro cuore dal risentimento. Allora sì, proveremo quella pace di cui parla anche la Madonna. Facciamo allora tesoro di questi due messaggi gennaio febbraio del 91 per capire che la preghiera personale avvicina a Dio e protegge fortemente dagli assalti del maligno. Sia lodato Gesù Cristo.